You wheelers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi, siamo qui per l'episodio numero 122 della nostra carriera su Motorsport Manager con Alas Adamson alla guida della 1 in 1 Racing Team, il round numero 5, il GP più glamour, il GP di Monaco, ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 4, GP di Barcellona in Spagna, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo, prima di dare un'occhiata a questo episodio, c'è un problema che ci sta veramente caratterizzando, che sta caratterizzando l'ultima stagione praticamente, gli ultimi 20-30 episodi, ossia le partenze, tutte le singole partenze di tutti i Gran Premi, soprattutto da parte del primo pilota, vedono appunto il nostro pilota perdere veramente troppe posizioni, possiamo partire in prima posizione, possiamo partire in quinta, in decima posizione, perderemo sempre almeno tre posizioni e questo ci sta veramente tagliando le gambe, infatti Charles Leclerc nell'ultima gara ha perso la vetta del campionato piloti, è sceso addirittura in quarta posizione a meno 11, proprio partendo dalla pole position e trovandosi alla fine del primo giro in decima posizione, purtroppo sembra non esserci soluzione, da un anno a questa parte le ho provate assolutamente tutte, potrei provare a togliere ancora ulteriormente carburante, ma non credo che sia quello il problema, teoricamente dovrebbero essere partenze random per il gioco, sia per noi che per Leah, ma ormai non mi sembra che siano più random, perché tutte le partenze vedono i nostri piloti perdere delle posizioni, a questo punto si tratta di un bug e sinceramente non so come cercare di aggirarlo. Vediamo se saremo in grado di fare qualcosa in questo Gran Premio di Monaco, ovviamente come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare la One in One Racing Team, in questo momento un po' difficile, un po' confusionario e ovviamente lasciate un bel commento qui sotto con il pronostico riguardante la prossima gara, il GP di Baku in Azerbaijan in cui è prevista pioggia, questa è la configurazione del tracciato, un tracciato molto veloce, questa la guida al tracciato, lasciate un bel pronostico qui sotto e ovviamente se già non lo siete iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Non perdiamo tempo, clicchiamo su continua, scegliamo Shell, selezione delle gomme, ovviamente come sempre 10 treni di gomme super morbide, 41 giri di gara, quindi un tracciato molto molto lungo, direi di andare di 6 treni di gomme gialle e 4 di gomme medie, perché probabilmente dovremo utilizzare le gomme medie e per quanto possibile cercheremo di fare un solo pit stop, montatura di componenti già effettuata, scendiamo in pista per il venerdì di prove libere. Ed eccoci pronti per il venerdì di prove libere, prevista pioggia alla fine della sessione, dobbiamo scegliere le gomme da utilizzare e sono indeciso se scegliere le morbide o addirittura le gomme medie, perché non so praticamente quali sono le temperature a cui lavorano queste gomme, quindi dovremo valutare, andiamo comunque intanto a settare le nostre vetture. Iniziamo con gomme rosse e gomme gialle come al solito, poi valuteremo, scendiamo in pista per iniziare le nostre prove libere, stint per Vito Freire, assetto da qualifica, quindi gomma rossa per lui e scende in pista, stint, assetto da gara, già scelto, gomma gialla per Theo, Purcher ovviamente come sempre, noi ci rivediamo per l'inizio del sabato di qualifiche. Terminate le prove libere, iniziamo il nostro sabato di qualifiche. Conoscenze, livello 3 per gomme super morbide, gomme morbide, livello 2 per le gomme intermedie, livello 3 per assetto da qualifica, assetto da gara, ovviamente gomma rossa e assetto da qualifiche per noi, per questo appunto sabato di qualifica. Setup delle vetture, dobbiamo leggermente ritoccare qualcosa, soprattutto nella vettura di Charles. Effettuate le modifiche al setup della vettura di Charles Leclerc, prendiamo parte alle nostre appunto, al nostro Q1 e scendiamo subito in pista con entrambi i nostri piloti per il primo e si spera unico tentativo del Q1. Charles ha passato Purcher, va a tagliare il traguardo e si mette in vetta, 1.10882, brutto invece il tempo di Purcher, a 1.03 dal compagno di squadra, Tictum dietro Leclerc, quindi un buon tempo da parte del nostro pilota monegasco, 138 millesimi di vantaggio, sembra avere una buona vettura per questo gran premio. Russell in terza davanti a Purcher, che potrebbe dover riscendere in pista, perché è stato battuto addirittura anche da Piastri con la AS. Alla fine non siamo scesi in pista, Leclerc in prima e Tio Purcher in dodicesima, eliminati Pierre Gaslitz, 1 da Zoe Schwarzman e Christian Lundgaard. Lundgaard e proseguiamo, prendiamo subito parte al nostro Q2. E qui la nostra scelta è chiara, non è cambiato nulla con la gomma soft, dobbiamo ancora modificare il setup di Charles, perché evidentemente ancora non siamo riusciti a migliorare, quindi proviamo ancora a diminuire il bilanciamento della velocità per dargli ancora un po' più di accelerazione, vedere se riesce ad arrivare a tutto eccellente 98%, e a questo punto lui lo mandiamo in pista con gomma gialla e facciamo la stessa cosa con Purcher. Proviamo la mossa della gomma gialla, perché sinceramente non è cambiato nulla con la gomma rossa. Se dobbiamo perdere posizione a quel punto partiamo con la gialla e proviamo a fare un pit stop in meno. Purcher ottimo secondo settore, mentre Leclerc è addirittura dietro a Purcher. 1.11.005 per Theo, 1.11.350 all'incirca, 345 per Charles, ci stupisce Purcher con gomma gialla. Comunque sembrano due ottimi tempi da parte dei nostri piloti che con la gomma gialla si mettono davanti a Verstappen, davanti a Russell, e quindi probabilmente potrebbe bastare anche solo questo tentativo per passare nel Q3. Passiamo con una facilità disarmante. Primo Theo Purcher e terzo Charles Leclerc con gomma gialla e chissà che la gomma gialla non sia meglio della gomma rossa su questa pista perché magari la rossa si va a consumare troppo in fretta. Eliminati, Russell a sorpresa, sembrava avere un ottimo passo il pilota dell'Alpine, ma alla fine è battuto dal suo compagno di squadra. Xagoraris, Norris, Piastri e Caio Collè, Piastri un altro che sembrava avere un buon passo. Proseguiamo, scendiamo in pista per il Q3 e ho in mente di provare una cosa a questo punto. La gialla sembra una gomma che funziona benissimo anche sul giro secco. Quindi io direi, primo giro, scendiamo in pista con gomma gialla. 99% per Purcher, 99% per Charles Leclerc, tutto eccellente. Scendiamo in pista con gomma gialla. Ne abbiamo a volontà. Proviamo il primo tentativo con la gomma gialla e vediamo se si conferma una gomma anche da giro secco. Purcher, secondo settore fucsia, il primo fucsia per Tictum e va in vetta con un 1.10.8 Purcher con Leclerc a 285 millesimi e Tictum a 4 decimi. Sembra davvero che la gomma gialla sia la gomma che funzioni meglio su questa pista? E la nostra vettura sembra veramente forte con un Purcher che sembra sugli scudi. Perché dopo il Q2 in vetta, Q3 ugualmente in vetta per il pilota francese, ora proveremo un altro giro con gomma rossa per provare a migliorare ma sembriamo nettamente più veloci con la gomma gialla che con la gomma rossa. Usciamo prima con Charles stavolta mentre in precedenza siamo sempre usciti prima con Tio Purcher. Montiamo gomma rossa per entrambi e vediamo se migliorano. Ma hanno fatto un tempo straordinario entrambi con la gomma gialla e secondo me è una gomma migliore rispetto a quella che abbiamo montato in questo momento. Leclerc non sta migliorando e Purcher sta facendo il secondo settore fucsia. si sta andando a migliorare ulteriormente. Entra un po' in lotta con Colton Herta. Taglia il traguardo Charles Leclerc che non migliora e non migliora neanche Purcher forse alla fine. Ma confermiamo il nostro risultato. Gomma gialla che ha funzionato meglio della gomma rossa ed è 1-2 con a sorpresa Tio Purcher davanti a Charles Leclerc. Visti i problemi in partenza non potevamo chiedere di meglio perché un 1-2 ci permette forse di avere magari un problema ad uno ma l'altro magari riesce a difendersi. Griglia di partenza 1-2 Tio Purcher davanti a Charles Leclerc con gomma gialla poi Tic Tumartor Leclerc Lawson Verstappen Malone Inovalac De Gerus e Colton Herta Russell Xagoraris Norris Piastri Collegas Lee Tsunoda Zoe Schwarzman e Christian Lundgaard Questa è la griglia di partenza scendiamo in pista per l'inizio della gara partiamo con gomma gialla quindi grande attenzione alla partenza ma siamo con due vetture là davanti gomme morbide e assetto da gara per noi vediamo quanto dureranno queste gomme setup delle vetture andiamo a modificare ovviamente il quantitativo di carburante io non so quanti giri faremo ma presuppongo che dovremo andare molto molto bassi di carburante direi 18 giri poi cominceremo sicuramente molto presto a gestirlo il carburante quindi andiamo con entrambi direi di 18 giri poi nel caso ci metteremo anche in gestione voglio provare questa mossa andando a non caricare troppissimo carburante andando a pareggiare più o meno quello che montano gli altri con gomma rossa direi di andare spinta stile di guida al massimo e modalità motore alta e poi valuteremo in seguito se andare a spingere naturalmente di più iniziamo la nostra gara charlie in seconda ma a sorpresa c'è Theo Purcell in prima posizione 5 luci che si spengono in questo istante stavolta parte meglio Charles Clerc non parte male Theo Purcell ma Charles quando non ci serviva o quando non era così tanto necessario parte meglio del compagno di squadra ora andiamo subito in modalità motore sorpasso per provare a difenderci Charles deve cercare subito di scappare e Theo Purcell deve cercare di tenere dietro questa flotta di vetture con Maloney che è partito fortissimo e si mette in terza per noi fondamentale avere un Maloney che non ha una vettura velocissima in terza posizione Charles Clerc che prova già a scappare un secondo e due di vantaggio nei confronti di Theo Purcell un secondo e mezzo con Maloney che prova a mettere sotto pressione il pilota francese seguiamo proprio il pilota francese e attenzione perché queste gomme sembrano avere una difficoltà incredibile a scaldarsi perché anche con modalità motore con modalità stile di guida al massimo sono rimaste molto molto fredde per questo primo giro Leclerc sta scappando L'Ouson ha passato Maloney e attenzione perché L'Ouson è molto molto più pericoloso rispetto al pilota della McLaren per il nostro Theo Purcell speriamo che Theo riesca a confermare il passo che si è visto durante le qualifiche anche nella gara per provare magari un clamoroso 1-2 per la 1-1 Racing Team sta volando Charles Leclerc giro veloce 1-12-8 e scappa 2 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Theo Purcell che è sotto pressione dall'Ouson ma per ora stiamo provando a difenderci vediamo l'Ouson quanto sta spingendo sta spingendo non sulla gomma più sul carburante sembra più veloce in questo frangente di gara ci prova all'esterno ma per ora Theo Purcell riesce a difendersi andiamo in modalità motore al massimo in modalità stile di guida al massimo così facciamo scaldare pian piano le gomme stanno gestendo bene la gomma rossa soprattutto l'Ouson dietro di noi Charles Leclerc ancora secondo settore fucsia sta forzando al massimo per provare a scappare lei in vetta è quello che dobbiamo fare subito mettere vantaggio soprattutto perché abbiamo il vantaggio della gomma gialla e potremmo rimanere davanti per molto tempo 1-12-8 ancora bassa di qualche millesimo Charles Leclerc e Theo Purcell continua a tenere dietro Liam Lawson settimo giro Theo Purcell ha preso un po' di vantaggio nei confronti di Liam Lawson in questo momento con entrambi i nostri piloti stiamo cominciando a gestire il carburante con Leclerc che continua a prendere vantaggio 4 secondi e mezzo sul compagno di squadra Purcell ha un vantaggio di un secondo e mezzo su Liam Lawson mentre Maloney sta facendo un favore incredibile perché sta mettendo tantissima pressione su quelli dietro Russell intanto è salito in quinta e le Ferrari sono crollate in ottava e nona con Arthur Leclerc in sesta posizione loro stanno consumando tanto le gomme noi stiamo risparmiando il carburante guadagnandola dietro perché Maloney sta facendo appunto da tappo abbiamo 11 secondi di vantaggio con Charles nei confronti di Maloney in quarta posizione quindi qua stiamo facendo una grossa selezione per il podio per ora la gara sta andando piuttosto bene per noi dobbiamo continuare a spingere così Charles Leclerc ancora per lui giro veloce la davanti in solitaria 5 secondi di vantaggio sul compagno di squadra nonostante non stiamo spingendo sul carburante giro veloce con due settori fucsia per il pilota monegasco primi p-stop si ferma Arthur Leclerc molto molto presto attenzione perché Arthur se monta gomma gialla dovrà fare due p-stop monta gomma gialla sono due p-stop sicuri e si trova nel traffico Arthur Leclerc nel traffico quindi perderà tantissimo tempo noi andiamo leggermente a spingere in modalità al massimo sullo stile di guida per far scaldare nuovamente le gomme abbiamo un ottimo vantaggio ora Leclerc 5 secondi e mezzo su Tio Purcher ha costruito la sua vittoria sulla partenza una partenza in cui stavamo perdendo veramente tanto Lawson a 4 secondi 3 secondi e mezzo da Tio Purcher nonostante stiamo gestendo il carburante grazie al fatto che la gomma è veramente tanto usurata possiamo tranquillamente aspettare si ferma Tictum per il suo p-stop quindi anche lui si troverà chiuso nel traffico con Arthur Leclerc fermo in 14esima posizione che si trova dietro tutti i piloti con gomma media e anche Tictum si trova dietro Arthur Leclerc ora quindi sarà lotta per loro per cercare di recuperare quante più posizioni possibili per rientrare in zona punti ora possiamo andare nuovamente in stile di guida neutrale dietro Lawson si ferma alla fine del giro presuppongo che a breve si fermi anche Max Verstappen mentre Russell continuerà e Russell è uno di quelli che si sta giocando il podio perché sta gestendo benissimo la sua gomma rossa addirittura sembra che come usura sia a livello della nostra gomma gialla giro 17 gomme consumate il nostro obiettivo è arrivare al giro 19 20 all'incirca per i nostri piloti faremo fermare prima Charles che è davanti poi Tio Purcerri infatti con Tio andiamo in risparmio per gestire meglio il la nostra gomma con Charles andiamo subito in modalità anzi in neutrale con modalità motore anzi al massimo con modalità motore sorpasso perché finisce questo giro ne fa un altro e va a fermarsi al diciottesimo giro con Purcerri che si fermerà al diciannovesimo quindi dovremmo allungare anzi probabilmente è meglio se facciamo un giro ulteriore quindi non spingiamo così tanto con entrambi facciamo anche un altro giro probabilmente questo più un altro giro perderemo nei confronti di Lawson che però è bloccato dietro il traffico non riesce a spingere molto si ferma Norris comunque molto si ferma scusate Russell molto presto e va dietro Lawson ovviamente ma una buona gara da parte di George Russell si dobbiamo gestire un po' la gomma perché voglio arrivare al diciannovesimo giro con Charles di modo che debba fare poi 22 giri con la gomma gialla nuova e al ventesimo con Tio Purcerri così ne farà 21 con la gomma nuova la stiamo gestendo comunque molto molto bene anche se ho il dubbio forse Tio non riesce a fare due giri forse Tio non riesce a fare due giri andiamo in modalità motore alta in stile di guida direi neutrale anzi al massimo non riescono a fare un giro in più non riusciamo a fare un giro in più con Tio Purcerra facciamo quindi il doppio pit stop facciamo il doppio pit stop con i nostri piloti attenti a montare gomma gialla per entrambi carburante dobbiamo mettere almeno 22 giri ne mettiamo 23 diciamo 23 giri vediamo con un un litro in più con un giro in più di carburante possiamo fare anche 24 strategia del pit stop bilanciata e ci fermiamo e stessa cosa per Tio Purcerra abbiamo il vantaggio per poterlo fare nei confronti di Tio Purcerra ci sono circa 6 secondi tra i nostri due piloti quindi non dovremo avere problemi è pit stop bilanciato opzioni carburante quindi abbiamo settato tutto pit stop per entrambi i nostri piloti e andiamo a spingere al massimo modalità attacco e modalità motore sorpasso per entrambi i nostri piloti per terminare il giro in quanto meno tempo possibile dovremo trovarci davanti a Pierre Gasly teoricamente con Charles Clark e forse in lotta con Lawson per quanto riguarda invece Purcerra con Lawson che però dovrà fare un pit stop in più speriamo in un pit stop veloce per Charles Clark dobbiamo sperare in un pit stop veloce sì fortunatamente nessun problema per Charles vediamo per Thio nessun problema neanche per Thio andiamo subito al massimo e modalità media sul motore con entrambi i nostri piloti Thio Purcerri entra in terza dietro Norris quindi davanti a Gasly e davanti a Lawson con Charles Clark che è in prima posizione e non si deve più fermare quindi la nostra condizione in questo momento è ottima Thio Purcerri net pit 2 si ferma a Gasly alla fine del giro abbiamo 3 secondi di vantaggio su Lawson con Lawson che però sicuramente dovrà effettuare un altro pit stop e Norris davanti a Thio Purcerri che ugualmente si deve fermare ma dobbiamo comunque provare a passarlo perché potrebbe farci perdere un po' di tempo purtroppo Purcerri non riesce a passare Norris e sta rimontando Lawson mentre là dietro e là davanti Charles Clark doppio settore Fuchsia 1-12-4 giro veloce non riusciamo a passarlo abbiamo sempre il vantaggio del pit stop in meno da effettuare anche se Lawson la sta gestendo quella gomma ma non credo di avere problemi stiamo aspettando che Norris si fermi stiamo semplicemente aspettando che Norris si fermi vediamo se si ferma alla fine del giro si ferma alla fine del giro questo è il segnale quindi avremo pista libera e potremo gestire la situazione con Thio Purcerri in seconda posizione Leclerc che ha ora 11 secondi e 6 su Norris 12-4 sul compagno di squadra ed è ancora giro veloce una macchina da guerra a Charles Leclerc 1-12-4 1-12-3 continua a fare giri veloci su giri veloci si ferma Norris quindi Purcerri si riprende la seconda posizione con 2 secondi di vantaggio nei confronti di Liam Lawson che deve ancora effettuare il suo secondo pit stop e a sorpresa Thio Purcerri spinge toglie il giro veloce a Charles Leclerc che ne stava facendo uno di seguito all'altro ora un buon passaggio da parte di Leclerc nel primo settore ma solitamente lui i settori fucsiali fa nel secondo e nel terzo sarebbe fondamentale per Charles Leclerc fare anche il giro veloce quindi aspettiamo alla fine praticamente per fargli riposare le gomme anzi andiamo in neutrale e in modalità motore alta abbiamo abbastanza carburante da poter sfruttare cerchiamo di fargli fare il giro veloce proprio negli ultimi giri ci sono però i primi doppiati mentre Lawson è crollato a 3 secondi si ferma ora si ferma molto presto Liam Lawson una gomma ancora in buone condizioni e monta una gomma vediamo se è rosso gialla gialla per Lawson si ferma Tictum che monta ugualmente penso una gomma gialla presuppongono gomma bianca per Tictum gomma bianca e quindi si troverà dietro Norris e difficilmente riuscirà a recuperare perché sono 8 secondi con svantaggio anche della gomma quindi questa gara dobbiamo sfruttarla per guadagnare quanto più possibile sui piloti che sono in lotta con noi George Russell si sta giocando la vittoria se riuscissero a gestire la gomma lui e Verstappen potrebbero giocarsi no scusate non la vittoria ma il podio purtroppo Liam Lawson fa il giro veloce in 1.12.3 ma attenzione perché Charles Leclerc ha fatto il secondo settore fucsia lo stiamo facendo spingere al massimo proprio per cercare il giro veloce visto che comunque di gomma poi la possiamo gestire fa il giro veloce in 1.12.292 ora andiamo in risparmio e modalità motore alta proviamo a tenerci il giro veloce con Charles Leclerc difficile che riesca a farlo Purcher ci proveremo ma se lo avrà in mano Charles Leclerc proveremo a lasciarlo a lui perché quel punto può servirgli tanto per il campionato piloti anche se comunque fondamentale è anche la seconda posizione di Purcher per cercare di farci recuperare quanto più possibile in classifica costruttori Charles Leclerc sta per andare ad iniziare l'ultimo giro lo facciamo spingere al massimo perché Liam Lawson ci sta provando a fare il giro veloce quindi non voglio rischiare con Purcher invece andiamo cauti inizia l'ultimo giro per Charles andiamo in velocità andiamo ad aumentare leggermente la velocità per vedere se riusciamo a fare un clamoroso giro veloce ma abbiamo una gomma veramente tanto usurata più sette decimi purtroppo nel primo settore quindi impossibile fare il giro veloce anche se guadagna nel secondo vediamo se chiude con un terzo settore pauroso ma non credo Charles Leclerc chiude senza il giro veloce nell'ultimo giro ma è una grandissima vittoria e andiamo a seguire anche la seconda posizione splendido Purcher e se non sbaglio trattasi del primo 1-2 della 1-1 Racing Team in Formula 1 con una strategia impeccabile qualifiche impeccabili e non abbiamo sbagliato nulla Charles Leclerc che si è preso la vetta in partenza dopo la pole del compagno di squadra e non si è più voltato 18 secondi al compagno di squadra e bravissimo anche Tio Purcher a gestire bene Russell si prende con una grande rimonta un meritatissimo podio guadagniamo tantissimi punti sui nostri rivali diretti controlli da parte della FIA rischio di infrazione basso fortunatamente nessuna regola infranta e possiamo proseguire con Charles Leclerc che si prende vittoria più giro veloce Tio Purcher in seconda George Russell completa il podio poi Louson Norris Tictum Verstappen Leclerc Gasly e Clement Novalak per la top 10 con le piastri Maloney De Gerus Schwarzman Hertha Zoe Lundgaard Tsunoda Exagoraris non si vedono più incidenti se non sbaglio neanche un incidente ancora in questa stagione non ricordo bene però mi pare di non ricordare nessuna safety car eccetera questo è il podio splendido con Leclerc davanti a Tio e a George Russell nostro ex pilota che comunque si prende il podio e Leclerc si riprende la vetta del campionato 16 punti di vantaggio su Arthur Leclerc e 21 di vantaggio su Tictum 22 su Max Verstappen 29 su Liam Lawson con Tio Purcher che è in nona posizione a meno 1 da George Russell e da Clement Novalak a meno 3 a meno 4 da Rashad De Gerus classifica costruttori Ferrari 341 Red Bull 339 due punti di distacco 1 in 1 Racing Team meno 24 si riavvicina tantissimo alla vetta reso conto scuderia morale al 100% anche per quanto riguarda il presidente ovviamente dopo questa splendida 1 o 2 meno 500 mila euro da questo fine settimana proseguiamo alla nostra dashboard meccanici epistop il nostro primo compito come sempre vediamo se ci sono profili interessanti assolutamente no quindi modifichiamo la squadra per il prossimo gran premio questa sarà la nostra squadra meccanici per il prossimo gran premio il GP di Baku fra tre giorni messaggi di posta tutti i messaggi di questo splendido fine settimana per noi non andiamo come sempre all'intervista revisione dei meccanici vittoria in casa ciao alas giustamente Charles Leclerc ha vinto il gran premio di casa grazie per il grande supporto durante tutto il weekend vincere la gara di casa è stata un'esperienza fantastica ha vinto una gara in casa più 25 di morale finalmente Charles Leclerc vince una gara a Monaco volano scintille fra Ferrari e Red Bull Charles Leclerc ha vinto il primo premio la vittoria va a Charles ma la gara verrà ricordata per la tensione tangibile tra Mattia Binotto e Christian Horner molti ritengono che una differenza a punti così piccola con una differenza a punti così piccola la rivalità tra queste due scuderie non potrà fare altro che crescere giustamente possiamo proseguire nel nostro calendario abbiamo la riparazione della vettura completata ma possiamo anche proseguire direttamente perché c'è la costruzione del nuovo motore la progettazione del nuovo motore completata quindi andiamo al messaggio di posta costruzione motore terminata andiamo a montare il nuovo componente e poi a costruirne subito uno nuovo progettazione di un nuovo componente come motori siamo al terzo posto ma dobbiamo migliorare quelli che abbiamo primo posto come alettone posteriore come freni e qui potremmo andare potremmo andare ancora di motore andare a svilupparlo in maniera veramente importante perché andiamo a vedere tra 16 giorni Istanbul tra 30 Pol Ricard sarà cruciale il motore andiamo ancora con il motore così lo possiamo sviluppare a livelli incredibili potremo dare veramente degli ottimi elementi ad entrambi i nostri piloti questo elemento è costruito in 26 giorni quindi ne avremo poi 4 per migliorarlo prima del gran premio del Pol Ricard spendiamo 1.117.000 euro progettazione del nuovo componente in corso proseguiamo nel nostro calendario e ci siamo siamo al fine settimana di Baku andiamo a vedere il miglioramento componenti perché probabilmente stiamo dando di pochissimo però il miglior motore in questo momento a Thio Purcher il secondo migliore a Charles Leclerc no andiamo a cambiare andiamo a modificare anche se è piccola però dobbiamo lottare per quanto possibile con il massimo delle nostre armi per il mondiale piloti con Charles Leclerc quindi montiamo il migliore a Charles sono comunque entrambi entusiasti quindi va benissimo così torniamo alla nostra dashboard e con questo episodio abbiamo terminato ragazzi non potete non lasciare un bel mi piace per se non sbaglio il primo 1.2 della One in One Racing Team in Formula 1 speriamo ne seguano altri e vediamo cosa saremo in grado di fare nel prossimo gran premio con tutti gli aggiornamenti che stiamo avendo finalmente una buona partenza anche se forse ci sarebbe servita in altri gran premi speriamo di conquistare un altro 1.2 in qualifica che potrebbe aiutarci veramente in maniera incredibile appunto per limitare è l'unica arma che abbiamo per limitare il bug delle partenze che abbiamo visto nei passati gran premi lasciate un bel mi piace ricordatevi un bel pronostico qui sotto per il gran premio di Baku round numero 6 della stagione e ovviamente se già non lo siete iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti io vi ringrazio per la visione alla prossima e ciao da alas ciao wheelers scusate mi sto non riesco a fare l'outro arrivederci ciao wheelers grazie a tutti